Diventare partner contrattuale di DPD Questo è Max. Max si è candidato come partner contrattuale indipendente per DPD. Il manager di DPD esamina i documenti ed è soddisfatto. Max ottiene un contratto. Max è ora un partner contrattuale indipendente di DPD. DPD assegna aree libere a partner contrattuali in tutta la Svizzera. Tali aree sono generalmente rurali o urbane. Il manager di DPD e Max si consultano su come suddividere l'area in rotte, a seconda della regione e del volume dei pacchi. Alla fine l'area di Max è divisa in rotte. Max ha assunto personalmente degli autisti in base al numero di rotte. Ha anche procurato per ogni autista un veicolo fino a 3,5 tonnellate. Naturalmente Max riceve supporto. Il responsabile del deposito e la sua squadra sono al suo fianco. Ogni mattina Max e i suoi autisti si consultano su come pianificare le proprie rotte. Se una rotta è troppo lunga, Max ricorre a una riserva. In questo modo una rotta è divisa tra due autisti. Ogni autista ottimizza in autonomia la propria rotta con il supporto tecnico di DPD. Non appena è pronto a partire, fa un segnale a Max. A questo punto i destinatari ricevono la propria fascia oraria per la consegna del pacco. Durante la rotta, gli autisti si fermano molte volte per un solo pacco e in alcuni casi per diversi pacchi. Al termine della rotta, gli autisti tornano al deposito. Lì compilano i loro fogli di presenza che poi Max controlla. Se c'è un problema, Max può discuterne con il manager di DPD per risolverlo subito. Alla fine, tutti sono soddisfatti.